Poco più delle dita di una mano, quando solo pochi anni fa erano più di una ventina. Le edicole stanno scomparendo a civita vecchia, trascinate nel baratro dalla crisi profonda e a quanto sembra purtroppo irreversibile, in cui versano i giornali, in particolare i quotidiani. Nel corso delle ultime settimane il numero delle edicole presenti nel territorio cittadino si è ulteriormente assottigliato per la chiusura, quasi contemporanea, di due esercizi commerciali presenti nel quadrante est della città. Non sta accadendo quanto viene ad esempio lamentato in una realtà analoga a quella di Civitavecchia, Viterbo, dove le edicole stanno letteralmente scomparendo dal centro cittadino. Da noi la crisi è generalizzata, è iniziata nel centro città e si è poi progressivamente ampliata in tutto il territorio urbano. Come detto al momento le edicole vere e proprie sono rimaste sette e non tutte sembrano godere di buona salute. D'altra parte non è facile fronteggiare il crollo delle vendite dei quotidiani. Ormai le copie vendute dei tanti giornali che compaiono la mattina nelle rassegne stampa delle tv nazionali hanno numeri che un tempo sarebbero stati giudicati imbarazzanti e tali da determinare la chiusura delle testate. Paese Sera, quotidiano storico negli anni 60, 70 e 80, presente all'epoca addirittura con due edizioni giornaliere, chiuse i battenti quando scese sotto quota 100.000 copie, un numero che adesso collocherebbe un qualsiasi quotidiano al quinto posto della classifica nazionale. Il digitale, ovvero la possibilità di poter leggere le notizie direttamente dal computer e soprattutto dal proprio smartphone, stanno di fatto decretando la condanna a morte dei quotidiani cartacei e con essa la crisi delle edicole, un tempo luogo di incontro e spesso di confronto per intere comunità cittadine.